Grazie Presidente, mi perdoni se mi rivolgo alla mia maggioranza, vorrei bacchettare oggi la mia maggioranza perché giustamente il tempo per cui si rinfaccia al passato basta, è finito, le opposizioni hanno ragione, ai cittadini non si può raccontare la verità, non è giusto, non si può, i cittadini non devono sapere quello che è successo negli ultimi 20-30 anni che noi stiamo scoprendo mano a mano che stiamo amministrando che sono le cause che ci impediscono di governare in maniera ordinaria perché ovviamente se governi in maniera straordinaria ci devono dei motivi, li devi rappresentare alla cittadinanza e quindi dovresti dire quello che è successo negli ultimi 20 anni, però non è giusto, non si deve dire, non si può fare, non si può dire a un cittadino che ci chiede qual è il motivo per cui non ci sono i soldi, non gli si può dire che gli è stato appioppato un mutuo a sua insaputa con la sua firma per 50 anni che finirà nel 2048 per cui ogni anno il cittadino paga 200 milioni e grazie a questo mutuo non ci sono risorse per fare e per offrire i servizi necessari alla città, non si può dire, hanno ragione le opposizioni e che cavolo, è assurdo, veramente non si governa, non si può dire al cittadino che quando è stato chiuso Caserino 900 che era un insediamento a gratis, ne sono stati aperti tanti altri che creavano lo stesso problema a pagamento a 30 milioni all'anno, non si può dire questa cosa ai cittadini perché è offensiva, non si può dire ai cittadini che nel merito alla delibera degli autodemolitori del 2014 che prevedeva, indicava diverse aree, quelle aree sono ovviamente invarianti al PRG e non si può dire al cittadino che una variante al PRG ha due o tre anni come minimo di procedura invariante al piano regolatore rispetto alla destinazione d'uso, non si può dire perché chiaramente per carità questa verità è talmente disarmante rispetto a una delibera del genere che qualifica l'incapacità di chi ha governato finora questa città e queste cose non si possono più dire, piantatela, basta, ora voi in dieci anni dovete risolvere quello che è successo il disastro di vent'anni e fatelo, grazie.